lascialo stare che lo deconcentri con quella toccata quando gliela toccata vedrà un porto su dentro bravo ci dobbiamo pagare 30 euro all'ora ci dobbiamo pagare 30 euro all'ora no cambia bastone si trova non si rompe schiaffalo lì chi è questo? prendo più freddo più dietro qua tira lassù tu decido capito che la fila in su guarda guarda lui dove sei? aspetta aspetta stefano guarda però non c'era quello lì fa niente quello che l'ha fatto scivolare però guarda anche lui anche se è un po' scarso bravo il bordo va sulla sola sai come hai fatto te? sei andato a candela ma hai fatto più ma hai fatto più ma il legno fa paura? sai com'è? fa male il culo più che la cosa hai voluto fare il doppio hai voluto fare il doppio non c'è non c'è non alzare tanto il davanti eh sono gli stivali sono gli stivali che ti ciulano ando su più a sinistra guarda allora la puoi fare dove vuoi però non alzarla troppo come prima se lui va qua cerca di essere già qua con il davanti pensa di andare di là perché se pensi di fare l'ostacolo non arrivi di là quindi devi impennarla tanto no non troppo tocca il limite il davanti su quelli lì ma pensa di arrivare lungo non pensare di fare cosa dove davanti? qua la vai a cagare no decidetevi non fanno appoggiare davanti non deve toccare la impenna troppo la ruota è qua non ti tocca questi che scivolo la ruota dietro arriva qua quando arriva qua non gli devi dare perché se gli dai bravo sei tu che tratta di potenza io tecnicamente sono un eroe adesso lo diamo a potenza noi abbiamo uno che lo vede più forte il professore tecnicamente no no però devi andare in grande città come sei andato a figa come sei una figa lì cosa fai? bravo bravo parlano di figa no la parola magica parlano di figa ragazzi non mi batte più nessuno guarda quando mi sogniamo come mi sogniamo ma ci sogniamo che c'è un culottone Stefano hai vinto è culottone cazzo di legno qua guarda rotti coglioni vai lei 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 più e quelle lei lì allungala allungala un pelino di più l'azzata l'ha schiacciata l'ha schiacciata l'ho capito anche io troppo tardi io faccio il primo io faccio il secondo zero via a casa tutte e due fuori dalle balle tu sei già scivolato qua eh in quanto riguarda non so è necessario hai oh hai 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 ha ha basta che è tutta